è abituata al latte per cui mi ha brandato qualcosa tutto il gelatino non sa però mi viene vicino ma non ho colato mi viene vicino ok però è indifferente se no sono guai io volevo vedere il musino qua ragazzi una bottina con il nostro liceo per l'impresione o questa cosa sì grazie 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 grazie